Ciao a tutti da Pior86, eccoci di nuovo qua con un nuovo appuntamento con la campagna molto difficile col clan Nojo. Auguro a tutti una buona visione, iniziamo. Si ha botto un esercito, adesso l'esercito è muto. Ci proviamo subito, allora innanzitutto qui, è meglio che lascio perdere l'assedio. Interrompi l'assedio che è meglio. Mi ripiglio un attimo. Intanto recluta altre katane. Qui provo a sabotare un esercitino del cacchio come questo. Esercito un nemico sabotato e missione è completata. E niente che mi ha anche salito. Buono buono, vai così. Deve diventare un maestro sabotatore, adesso. Aumentiamo le probabilità critiche di successo. E qui finiamo di mettere la spunta sul sabotatore. E poi andiamo avanti con gli assassini. Ok. Ma non posso restare? No. No. Vabbè. Allora, io ho dato una bella botta ai Satomi. Adesso mi riprendo un attimo. E ho fatto esperienza anche molto importante con l'esercito. Quindi sto cominciando a fare esperienza. Non so perché non mi è salito il generale di grado, ma... E' lo stesso. E niente. Direi che per stato uno siano già belli che posto. Qui adesso sto arrivando ad Armanforte. Per cui, intanto. Ci avviciniamo con truppe fresche. C'è anche dei samurai una cavalleria che non è male. Qui ancora non si muove nient'altro. Adesso ci sono questi miei vassalli che non so cosa stanno cercando di fare. Per andare a combattere contro gli goicchi. Vabbè. Vedano loro, insomma. Qui posso rimettere... Eh, qui sono già a posto con le tasse. E qui anche. Va bene. Direi che posso passare. E adesso sto facendo la via della spada per avere più esperienza. Passiamo il turno. Ok, hanno abbandonato la città. Allora io vado a conquistare. Tanto guarda, stiamo lì, stiamo qua. E vai. Facciamo direttamente. E vai. E anche il generale che è aumentato in tigrado. Scupazione pacifica. E' buono. Comincia a aumentare anche di fama, che non è positivo, ma vabbè. Adesso. Andiamo di fare aumentare, di sviluppare il mio carissimo generale. Vediamo cosa c'è a disposizione. Più non attacco corpo a corpo, tutta la fanteria di spada. Buono, vai. E aumentiamo col movimento. I primi due punti che gli do. Adesso col mio ninja. Vado a sabotare quell'esercito qua su. Sabote esercito. Ok, così sto lì. Non rompo le balle, intanto che faccio i miei comodi. Qui, vado avanti a reclutare. Questa è una buona città. E' una buona città. Allora, dove è il mio ninja qua? Non lo so, non lo so. Lasso stare qui. Ad assassini vari. Sennò ci provo, dai, tanto. Questo qua. Assasino fallito Perfetto Vabbè Passiamo il turno E niente Dovrei essere messo bene comunque adesso Adesso dovrei cominciare a conquistare la rotta di collo Tutte le province dei Satomi Pian piano Tutto che prima di passare mi porto quei messuc che mi servono Vabbè C'è un altro di messuc Adesso non te li posso reclutare qua Niente direi che a questo giro siamo a posto Passiamo il turno Ninja nemico giustiziato Quale? Ah qui perfetto Allora qua vediamo un po' se riesco a sabotarlo di nuovo Sabote esercito Esercito nemico sabotato Tanto faccio esperienza lo tengo di buono Io cominciamo a messi più 17 Quindi esercito Andiamo ad attaccare qua Perfettissimo Occupazione pacifica Cominciamo a metterci dentro Prima Mi vengo a conquistare anche questa Se riesco Con Itakeda come si è messa prima di fare passi avventati Aspetta Molto amichevole con Itakeda 78 Sto salendo abbastanza a palla Allora quindi con Itakeda Mi faccio un accordo commerciale Così momento ancora i riporti Poi un altro accordo commerciale Lo potrei fare con Yamana No Loro mi erano diminuito addirittura No no sono aperto Facciamolo con gli coicchi A sto punto tanto Altro Si si rompe le coglioni E poi ne posso fare un altro Che faccio con questi qui Che sono Sono ostili Tutti ostili Andrò beh sono tutti ostili Scegli bene le parole Ok Scelgo bene le parole Tranquillo Ne ho un altro ancora addirittura Ishimazu Scegli bene le parole Ok Oh adesso mi sono risolvato un po' economicamente Ecco però Allora Provo innanzitutto prima a togliere l'esercito E lo mettiamo qua Qui al prossimo siamo a meno 8 Però al prossimo turno Ci abbiamo un più 4 Poi ci metto due mezzucche Che dovrebbero sorvegliare l'accampamento Meno 6 Vabbè vedete Devo sviluppare un attimo Adesso è già sviluppato E te invece come si è messo Più due Quindi te Poi qua Qui Sorveglianza degli eserciti Sorveglianza delle città Eh posto l'ora Ok Al prossimo turno dovrei essere a posto Con quella città Qui un po' meno ma Adesso ci recluto uno E' un altro ninja che posso reclutare Me lo recluto sempre qui Qui quella truppetta serve No Ando a casa Qui c'ho ninja superiori Quindi me lo recluto Te viene bevi da lì Vieni qua Andiamo a fare qualche sabotaggio in giro Qui intanto reclutiamo ancora spade Ok Bene Per questo turno sono messo abbastanza bene Ma con i tachiedi dove credono di andare Tachiedi vediamo come sono messi Ah ma sono già in conflitto là Allora proviamo a fare un altro commercio Questo ti devo dire con stima zuvia Scegli bene le parole Ok Direi che posso salvare e passare il turno Blocco navale Accordo commerciale terminato in shimatsu ovviamente Allora Qui continuo ancora a distruggere un posto esercito Per tenerlo fermo Allora Ormai lo dovrei avere dimezzato Cioè Come sono messi Allora Poi Possiamo togliere un mezzuco E lo porto a vedere qua Come ci ha messi Ah non c'è della gente Ora la vado ad attaccare Continua la sedia Andiamo invece a derla quella città come messa Che non so poi dove sia Ah qui Così me ne dopo finisco di combattere anche la guerra contro di loro Io posso un attimo rilassarmi Per modo di dire Allora Beh che cosa posso tirare su Campo di strumento di aree Allora qui non me ne frega niente Adesso che c'ho quella là Qui posso farmi delle cavallerie un po' più Pese però mi sa Eh devo avere il 2008 Niente passo il turno Ma stai tornando intanto la fondo Che non mi servono niente Mi prendono solamente mantenimento Ok Vediamo un po' se posso fare un accordo commerciale con qualcun altro 6 cognizioni Ti chiedi accordo commerciale Ok Niente direi che posso passare il turno Aspetta qui Manca un turno Ok Ok per questo video è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Votate e commentate Se vi è piaciuto un bel pollice in su Non guasta mai Grazie dell'attenzione Alla prossima Ciao a tutti